Il Vangelo del Giorno secondo Luca. Oggi è domenica 14 aprile 2024. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo ventiquattresimo, dal versetto 35 al versetto 48. In quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nell'atto di spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la grande gioia ancora erano increduli, disse loro «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza e alla saggezza delle scritture e disse «Così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore Commento al Vangelo del giorno della domenica secondo Luca Se ancora non l'hai fatto, metti mi piace a questo video, iscriviti al canale di Fratelli e sorelle Preghiamo e lascia un commento sotto questo video. Oggi ci immergiamo nel racconto di un momento straordinario e carico di significato, il ritorno da Emmaus e l'apparizione di Gesù ai suoi discepoli. È un passaggio carico di emozioni contrastanti, stupore, spavento, gioia, incredulità. Ma sopra ogni cosa c'è la rivelazione della presenza viva e tangibile del risorto. Immagina la scena. I due discepoli, ancora increduli per ciò che hanno vissuto lungo la strada, si ritrovano a raccontare l'incredibile incontro con Gesù. E mentre sono lì a parlare di queste esperienze, Gesù stesso appare in mezzo a loro, portando con sé la pace e la certezza della sua presenza. Eppure, nonostante la sua presenza fisica, i discepoli sono sconvolti, pensando di vedere davanti a loro un fantasma. Ma Gesù, con amore e pazienza, si rivolge a loro per dissipare ogni dubbio. Mostra a loro le sue mani e i suoi piedi, invitandoli a toccarlo e a riconoscere la sua reale presenza. E per rendere ancora più tangibile questa realtà, chiede loro qualcosa da mangiare e mangia davanti a loro. Questo passo del Vangelo di oggi secondo Luca non è solo un racconto di un evento storico, ma è anche un invito a riflettere sul significato più profondo della risurrezione di Gesù. Egli non è un fantasma, non è una visione, è il risorto, presente in mezzo a noi, con un corpo tangibile e vivo. E attraverso questa presenza, egli apre le menti dei suoi discepoli all'intelligenza delle scritture, mostrando come tutto ciò che è stato scritto su di lui si stia compiendo. La sua risurrezione non è solo un fatto isolato, ma rappresenta il culmine di un progetto divino di salvezza per tutta l'umanità. È la conferma che egli è il Cristo, colui che doveva soffrire e risorgere dai morti, portando con sé la speranza di conversione e perdono per tutti i popoli. Noi stessi siamo chiamati a essere testimoni di questa realtà straordinaria. Come discepoli possiamo incontrare il risorto nelle nostre vite quotidiane, nelle scritture, nell'Eucaristia e nei volti dei nostri fratelli e sorelle. E come loro, siamo chiamati a testimoniare quella che è la verità della risurrezione, portando la buona notizia della salvezza a tutti coloro che incontriamo lungo il nostro cammino. Il commento al Vangelo del giorno torna domani alle ore 18 sul canale YouTube di Fratelli e Sorelle Preghiamo. Attendiamo le tue impressioni sul video di oggi qui sotto nei commenti. Grazie. Grazie.